amici di prof digitale ben ritrovati una nuova pillola del prof all'interno della quale parirò di flipgrid flipgrid vi devo dire la verità per me è stato amore a prima vista lo trovo uno strumento straordinario che utilizza i video per rendere più attivi i ragazzi per renderli più partecipi e per rendere più accattivanti le vostre lezioni si tratta di uno strumento che consente appunto di interagire con i ragazzi attraverso questo potente strumento che è il video ma soprattutto attraverso gli smartphone che i ragazzi ovviamente hanno già in tasca come funziona flip grid lo scoprirete all'interno del video che sta per partire ma prima non dimenticatevi di cliccare iscriviti al canale di youtube per vederlo crescere per vedere tante altre nuove pillole del prof a dopo mi trovo all'interno della home page di flip grid all'indirizzo flipgrid.com una piattaforma che si definisce di social learning ovvero una piattaforma che sfrutta i meccanismi dei social per ottenere apprendimento di cosa si tratta i grid o le grids chiamiamole un po come come volete sono delle vere e proprie classi all'interno di queste classi avete i vostri alunni come vedete qua cosa succede i vostri alunni condividono all'interno di questa classe virtuale dei video realizzati direttamente con lo smartphone quindi un qualcosa che gli è assolutamente familiare sulla base di cosa sulla base dei topic quindi di argomenti qua ci sono alcuni esempi ad esempio book talks supponiamo che voi abbiate dato da fare una recensione di un libro magari letto in classe o lasciato da leggere in autonomia ai ragazzi a casa bene i vostri alunni possono in questa maniera registrare una video recensione per parlare di ciò che li ha ispirati o comunque facendo un riassunto del libro del libro letto ovviamente il video realizzato dagli alunni è commentabile dagli altri alunni ma come dice chiaramente qui i docenti hanno il controllo totale attraverso moderazione accessi eccetera eccetera su tutto ciò che viene realizzato dai propri alunni ovviamente anche la videocamera già integrata all'interno della piattaforma di flipgrid è molto interessante la vedremo tra poco e quello che interessa alla maggior parte di noi è il fatto che sia totalmente gratuito ed è compatibile sia con i dispositivi microsoft perché flipgrid è stato acquisito da microsoft ma è disponibile anche per ios e per android quindi copre praticamente la maggior parte dei dispositivi esistenti all'interno delle scuole ma soprattutto al di fuori delle scuole è una piattaforma molto diffusa negli stati uniti tant'è che poi vedremo all'interno della stessa che è possibile prendere spunto da ciò che viene fatto anche nelle altre scuole per creare attività specifiche quindi dicevamo assolutamente gratuito ci si iscrive andando qua sul link sign up today vi vengono chiesti dei dati potete iscrivervi anche direttamente con il vostro account microsoft se avete una scuola che è iscritta a microsoft 365 oppure con un account g suite for education se la vostra scuola g suite for education quindi assolutamente diciamo democratico nell'utilizzo una volta fatta la registrazione il vostro login sarà educator login io ovviamente ho già fatto la registrazione e una volta entrati all'interno della piattaforma vi troverete qui dove vedete my grids quindi partiamo da questo le grid sono le vostre classi virtuali quindi la prima cosa che dovete fare è creare una nuova grid premendo il bottone new grid a questo punto abbiamo una scelta cliccando qua dove vedete questo tasto multicolore ecco qua avete a disposizione tre scelte potete decidere di far connettere i vostri studenti con il dominio email della scuola il classico chiocciolanomescuola.com se la vostra scuola è una scuola g suite for education o una scuola microsoft quindi se la vostra scuola ha attivato o i servizi microsoft o i servizi google potete dire ai vostri ragazzi che possono entrare e possono iscriversi poi alla piattaforma utilizzando il loro indirizzo nome studente chiocciolascuola.com oppure se i vostri studenti non hanno email potete scegliere questa opzione qui student id list quindi creare una lista di studenti ai quali poi verrà abbinato un id univoco e che potranno poi accedere alla piattaforma attraverso qr code quindi classici codici da fotografare che poi rimandano a un link più complesso oppure se avete bisogno magari per un progetto di condividere idee con colleghi anche all'interno della scuola stessa plc's and public leads quindi queste sono classi pubbliche all'interno delle quali possono intervenire anche persone al di fuori della vostra organizzazione quindi se lo volete utilizzare con i ragazzi le opzioni sono due io ho una scuola g suite quindi sceglierò questa ovviamente bisogna dare un nome prima a come vedete qua viene creato automaticamente un codice questo codice sarà il codice che voi dovrete dare agli alunni per poi condividere per fargli fare l'accesso a questa a questa classe virtuale ovviamente lo fa in automatico quindi questo è disponibile ma volendo potreste anche cancellarlo e farlo da voi e cercare per esempio prima per vedere se è disponibile e in questo caso ecco sì è disponibile ovviamente possiamo personalizzarlo e scegliere quella che sarà poi l'intestazione d'immagine scelgo questa della torre eiffel per deformazione professionale secondo passaggio siccome abbiamo scelto di far accedere i nostri studenti con il dominio microsoft o google come dicevamo se i miei studenti hanno un'email del tipo nome punto cognome chiocciola mia scuola punto com ok potrebbe essere ic dante alleghieri punto com dovrete mettere qua il mia scuola punto com per aggiungerlo come dominio che è autorizzato ad entrare ovviamente non non vanno bene i classici gmail punto com yahoo punto com libero punto it eccetera eccetera quindi devono essere dei domini che appartengono alle scuole e che quindi hanno attivato il i servizi o google o microsoft come vi dicevo prima se non avete una scuola né microsoft né google potete crearvi la vostra lista di id univoci da dare poi ragazzi tramite qr code a questo punto gli dirò lancia la mia grid benissimo questa è la mia la mia classe prima e possiamo anche personalizzare la privacy nome eccetera eccetera cliccando qua sul tasto edit e come vedete possiamo anche cambiare idea e decidere di creare la student list e qua appunto dove c'è scritto ad student dovete mettere poi il nome cognome lo studenti di che poi sarà quello con il quale entrerà il vostro studente quindi questo lo dovete fare a mano e poi potete scaricare l'intera lista per darla poi fisicamente in classe oppure lasciare quello che avete scelto prima quindi ho creato la mia classe che si trova qua sotto one grid quindi qua sotto dovrete avere tante grid quante sono le vostre classi le vostre classi possono essere attive o inattive e con il tasto sono entrato dentro con il tasto share potete dare come dicevamo prima il link direttamente agli studenti lo potete mettere all'interno di un sito se avete un sito internet o anche in questo caso condividere un qr code per farli per farli per far accedere i vostri studenti in maniera più veloce appunto grazie al qr code entriamo all'interno della nostra classe virtuale questa quindi vedete grid details avete la vostra immagine e potete aggiungere altri insegnanti dove c'è scritto copilots il copilota potete aggiungere altri colleghi ad esempio i colleghi di sostegno o se state facendo un progetto altri altri colleghi e qua avete le azioni della della griglia la potete duplicare quindi potete duplicare la vostra classe se non volete stare a perdere tempo come avete visto prima nella nella creazione potete duplicarle poi cambiare il nome e qua avete le varie le varie notifiche nelle varie notifiche che sono state attivate questi sono i topic ovvero quelli che daranno poi il live o studenti per la creazione di contenuti la piattaforma ne crea automaticamente due nuovi senza che voi dobbiate fare niente il primo è introduction quindi le presentazioni e su sotto ci avete un flip code quindi sarà il codice che gli studenti dovranno poi digitare per accedere alla piattaforma come vedete avete sempre la possibilità di vedere ciò che succede con gli occhi dello studente quando c'è scritto view as student se io clicco però ovviamente mi chiede di accedere con il la scuola l'email della scuola perché questo è quello che io ho impostato nella creazione quindi vado su introductions e dentro o vedete è possibile mettere anche delle gif qua ho la possibilità di vedere i video che sono stati caricati dai miei studenti qua mi dice presentati in 90 secondi o meno e condividi qualcosa che ti faccia sorridere ovviamente queste queste introductions se io clicco su edit posso farlo diventare presentazioni decidere che il tempo di risposta debba andare magari a due minuti e qua sotto dall'inglese lo posso far lo posso far diventare in italiano basta riscriverlo qua c'è la topic privacy quindi questo lasciatelo sempre acceso cioè i video sono moderati quindi prima di apparire alla classe sarete voi insegnanti che dovrete moderarli quindi li vedete voi il video va bene entra all'interno della classe attivo e qual è la freeze date cioè quando è che il topic si chiude quando è che non accetta più video in questo caso mai ma potreste decidere di mettere una una data limite proviamo a crearne uno direttamente noi che proviamo a creare un topic qua dove sono in prima e cliccherò su un topic dovrò dare appunto un titolo proviamo a immaginare un'attività che sia qualcosa di molto semplice da insegnante di lingua straniera mettiamo un qualcosa del tipo descrivi la tua cameretta quindi un qualcosa da fare lingua straniera topic tip dobbiamo dare delle indicazioni ad esempio siate sintetici ma chiari video response time questo è importante quanto dovranno parlare i vostri alunni al massimo si può andare dai 3 15 secondi che mi sembra veramente poco fino ad un massimo di 5 minuti perché 5 minuti perché immaginatevi una classe di 25 30 alunni e dovete vedervi dei video da 10 minuti l'uno richiede veramente tanto lavoro invece qua si richiede un qualcosa che rispetti sintesi quindi si tratta di pillole ok quindi non pensatele come delle video interrogazioni ma chiedete di fare delle cose più o meno semplici che al massimo richiedano 5 minuti quindi per me la descrizione della cameretta in lingua straniera può prendere due minuti e mezzo e va benissimo e qua dovrò mettere la descrizione che può prendere fino a 500 caratteri e può contenere anche dei link quindi darò delle indicazioni oppure potrò fare delle domande qua ovviamente come abbiamo visto prima la video moderation deve essere attiva di modo che voi siate i primi a vedere i contenuti della classe che stato vogliamo dare quindi ti attivo vuol dire che gli studenti possono registrare frozen vuol dire che gli studenti possono vedere video ma non li possono registrare o inactive vuol dire che non si può fare niente all'interno del topic c'è una data di scadenza no in questo caso no possiamo noi registrare un video per primi quindi possiamo dare anche delle delle indicazioni video e registrarli direttamente all'interno della nostra del nostro computer facciamo una prova se io premo record video dovete registrare il video della vostra della vostra cameretta descrivendola in maniera sintetica ma completa e chiara mi raccomando fate un buon lavoro quindi ho registrato il video una volta fatto questo premo il tasto next dovete registrare il video della vostra della vostra cameretta descrivendola in maniera sintetica ma completa e chiara mi raccomando fate un buon lavoro come vedete qua c'è la possibilità anche di tagliare l'inizio e la fine del video ok cliccherò su next posso fare addirittura un selfie ok next quindi sta caricando il mio video sono video molto brevi quindi è molto veloce come cosa bene è successo, completato quindi all'interno del mio topic i miei studenti vedranno anche questo video e potranno poi partire da quello per registrare il proprio video ovviamente come avete visto vi faccio rivedere cancelliamo magari questo potete caricare voi stessi un video pronto potete aggiungere un video che è presente su youtube un'immagine, una gif, un emoji pensate a questo, dell'aggiungere il video come un qualcosa che parta ad esempio dalla classe capovolta quindi gli chiedete di fare qualcosa a partire da delle video lezioni che avete creato voi, eccezionale qua avete anche la possibilità di mettere degli allegati attraverso link ad esempio avete un documento non riuscite a registrare un video ma avete un documento, un pdf che descriva tutte le varie fasi di un'attività che poi volete che i ragazzi registrino col video inserite qua il link e mettete quanti allegati volete ovviamente nei video features la selfie decoration qua date la possibilità ai ragazzi di inserire all'interno dei propri video delle decorazioni che possono essere degli sticker virtuali oppure dei disegni oppure nessuno e qua anche questo è importante dovete decidere se gli studenti possono rispondersi tra di loro una volta che voi avete deciso che il video vada inserito all'interno della vostra grid e qua gli attachment link decidete voi se questi siano pubblici quindi visibili a tutti o solamente visibili a voi oppure nessun attachment link feedback questo è molto importante basic feedback quindi quando poi riceverete il video dal vostro studente su cosa lo valuterete sulla performance sulle idee oppure su custom feedback potete mettere voi i criteri che poi vi permettano di valutare attraverso le competenze quello stesso video quindi potete mettere ad esempio rispondenza alla richiesta performance sulla richiesta e quant'altro quindi siete voi che decidete i criteri quindi assolutamente personalizzabile da questo punto di vista una volta fatto questo cliccate su create topic e qua avete il link diretto a questo nuovo topic e lo potete condividere poi con i ragazzi come vedete descrivi la tua cameretta se io torno all'interno della classe eccolo qua descrivi la tua cameretta ho zero video e zero views quindi anche una volta condiviso il video con il topic con la classe avrò la possibilità di vedere quanti hanno risposto e quante visualizzazioni ho ottenuto il mio topic bene spero che questa pillola vi sia piaciuta e spero che Flipgrid vi sia piaciuto cosa ne pensate lo utilizzerete fatemelo sapere all'interno dei commenti qui sotto personalmente penso che sia uno strumento eccezionale per mantenere vivo quello che è lo scambio educativo con i ragazzi e per mantenere viva l'attenzione su quelli che sono gli argomenti che via via introdurrete in classe sono sicuro anche che la facilità di utilizzo giocherà dalla vostra quindi se lo provate fatemelo sapere per quanto riguarda le pillole del prof l'appuntamento è molto presto e molto presto ci sarà anche una nuova video recensione non dimenticate che Prof Digitale è su tutti i social e avete visto prima passare tutti i vari riferimenti quindi ci vediamo nei vari social l'appuntamento qui su youtube è molto presto ciao a tutti grazie a tutti